Bene, dunque quando appunto la Cristina mi ha invitato a parlare di Back to Basic ho provato ad immaginare quelli che potessero essere un po' i valori del Back to Basic e quindi con tutti i Back to Basic che si rispettino sono partita dal futuro e dal tracciare quello che potrebbe essere l'identikit del retail specializzato del futuro quindi con particolare attenzione a quelle che possono essere una serie di partnership all'interno della filiera quindi in primis con l'industria di marca piuttosto che la metodologia con cui possono essere messi in linea i Back data al fine di poterli utilizzare con efficacia perché poi la vera sfida è questa. Passando ovviamente da una connessione stretta di digitalizzazione a canale fisico laddove per canale fisico ovviamente poi non dobbiamo trascurare il livello di servizio che noi diamo al consumatore che è sempre più desideroso di fare una spesa veloce ed efficace quindi di avere un execution perfetta anche garantita dal personale che ha un elevato livello di competenza e che è motivato no e un po' qualche anno fa si parlava di ritornare a fare un lavoro sexy all'interno del retail rendendolo appealing e questa è un'altra grande sfida ovviamente rendendo il punto vendita più circolare e sostenibile ma la verità è che nel tracciare l'identikit del negozio del futuro e quindi provare a fare queste riflessioni mi sono resa conto di come in realtà queste siano forze del cambiamento che in parte per qualche retail e nella totalità per altri sono già esistenti e che sono caratteristiche proprio del punto vendita in evoluzione di una infrastruttura commerciale che adesso è presente e sta cambiando per una serie di motivazioni che possono essere legate alla gestione dei costi quindi all'efficienza del personale dell'esposizione della merce un po' prendendo anche spunto dal discount che peraltro per alcuni versi è anche molto vicino al mondo drug al mondo del lavoro che cambia perché le persone che fanno il lavoro quindi i nostri collaboratori cambiano modus vivendi modo di approcciare al lavoro e alle necessità dei consumatori quindi tre attori principali di approcciare i canali sempre con maggiore fluidità e in effetti le grandi superfici un po' no quello che abbiamo visto con i dati nielsen sono quelle che soffrono di più e che vengono sempre più abbandonate a vantaggio della prossimità e delle aperture dei negozi in centri nevralgici strategici dove ancora più efficace è la connessione del fisico veloce con il digitale in italia non ci sono tantissimi esempi uno fra tutti che ho visitato personalmente e mi piace riportarlo qui è quello di albertine to go in olanda che poi se vogliamo è proprio anche nell'etimologia stessa del termine l'emblema della velocità di fare la spesa Grazie a tutti Beh quindi le parole chiave prossimità convenienza servizio laddove per convenienza poi c'è anche un duplice tema rispetto al convenience cioè prodotto facile veloce convenienza effettivamente del prezzo Anche perché il prezzo è una dinamica che nel canale specializzato purtroppo e me non va assolutamente dimenticata perché è un po' un valore che è dato quasi per scontato imprescindibile dal consumatore E in effetti la maggior parte di essi lo ricercano e in primis lo come dire antepongono anche un tema qualitativo poi ovviamente il discorso della qualità è succedano e al prezzo perché io sono disposta anche a pagare di più Per una serie di prodotti che mi fanno star bene che mi garantiscono un livello salutare alto ma il prezzo è fondamentale e quindi sceglierò di fare i miei acquisti questo un po' al di là del nostro canale drag è un po' come corollario imprescindibile per tutti i segmenti Cercherò prodotti sempre scontati in promozione meno prodotti superflui perché c'è un po' il tema del caro vita sceglierò le marche più convenienti avrò cura delle marche abituali per cui il tema delle fidelizzazioni alla marca rimane ma fondamentalmente aspetterò che vadano in promozione Quindi confronterò sempre i prezzi e vedremo come il mantra dell'integrazione dell'offline con il digitale mi aiuta a rassicurare il consumatore in questa direzione e romperò in genere meno cose quindi perderò valore Quindi in un anno in cui veniamo fuori da una spinta inflazionistica importante eravamo tutti molto felici l'anno scorso di avere le casse piene grazie a valori di fatturato molto alti Poi abbiamo iniziato quest'anno a perdere però i volumi perché poi la spinta inflazionistica di fatto si è placata per cui il valore è stato depauperato Ho dovuto aumentare le promozioni per portare dentro ancora più volumi e cercare di catturare quei consumatori che erano un po' cherry picker e quindi ho impoverito ancora di più il mio carrello L'unica parola forse mantra che rimane ai retail quest'anno è la parola margine quindi dei tre KPI me ne porto a casa almeno uno Quindi in questo scenario in cui perdiamo valore come possiamo valorizzare lo scaffale? Che cosa possiamo offrire al consumatore di diverso? Sempre ritornando un po' al tema back to basic perché in realtà l'identikit del futuro abbiamo visto che in realtà è presente quindi il futuro è probabilmente soltanto una congettura mentale E quindi la sostenibilità, la circolarità assieme a un punto vendita che possa essere inclusivo e attrattivo possono essere la chiave di successo Laddove però per sostenibile circolare io non mi riferisco soltanto alla stretta etimologia del termine legata più che altro a temi ambientali Ma quanto il negozio possa essere sostenibile in termini di gestione, di struttura dei costi, di esposizione della merce, di ore lavoro, di sinergia con l'industria di marca Perché il negozio è sinergico al mio business quando la redditività per metro quadro è una redditività che mi consente di portare ricchezza E allo stesso tempo però mi consente di avere sempre sullo scaffale i prodotti nuovi, le novità per rendere attrattivo il mio negozio E inclusivo attraverso un legame digitale quindi di tutti quegli strumenti che abbiamo visto volantino oggi Piuttosto che tutta la relazione col cliente che non sono altro che drive to store Cioè io devo utilizzare il futuro e tutte quelle metodologie un po' più digital per riportare il negozio al centro e far dispiegare gli acquisti all'interno del negozio Poi non me ne verranno gli amici dell'e-commerce ma fondamentalmente l'esperienza d'acquisto dei nostri retailer è per il momento e prevalentemente rimane fisica Non ovviamente abbandoniamo quelle che sono le integrazioni dei diversi target perché lo scenario poi al di là delle dicotomie nord e sud C'è un'attitudine all'acquisto che cambia, la necessità di reperire informazioni sempre più velocemente, di confrontare i prezzi E quindi il virtuale con il digitale sono labili, poi molti confondono virtuale, ma che cos'è veramente il virtuale e che cos'è il digitale? Cioè io posso essere virtuale banalmente anche con il digital synergy nei negozi, con i video, con le etichette elettroniche Però in realtà poi non sarò veramente digitale se non avrò tutti quegli strumenti che mi portano il consumatore nel negozio Poi peraltro nei nostri negozi l'approccio del drive to store è differente perché? Perché se penso per esempio agli sfogliatori digitali, io che cosa faccio come consumatore? Cerco dei prodotti che mi vengono sollecitate dalle push, dalle proximity e ne confronto il prezzo Poi che cosa succede? Che andrò nel negozio a dispiegare i miei acquisti Andrò nel negozio probabilmente anche sollecitato da una serie di informazioni e coinvolto maggiormente dalle proximity che riceverò Nel canale per esempio specializzato, che è sempre specializzato, è sempre un category killer, è quello dell'elettronica di consumo La customer journey avviene con un pezzetto in più Perché io riceverò una sollecitazione dagli sfogliatori, confronterò i prezzi Andrò in negozio dove comunque mi aspetto non tanto un'esperienza ma quanto un servizio Perché probabilmente quel televisore ultramoderno non ne conosco tutte le caratteristiche, le dotazioni Ho bisogno di vederlo perché comunque comporta una spesa importante Ma tornerò ad acquistarlo online E quindi ovviamente il processo d'acquisto si complica ed è differente E questo probabilmente è un tassello che per ora noi ancora non abbiamo Perché come Albert Einstein ci insegna Noi vogliamo la spesa facile e veloce E vogliamo che avvenga anche vicino casa nostra E quindi ritorniamo al back to basic Per noi il back to basic è il punto vendita Però non il punto vendita classico, non solo il retail classico Ma il punto vendita che diventa un media Diventa un media perché ogni touch point che noi attiviamo È un touch point che ci consente di entrare in relazione con l'industria di marca E offrire l'opportunità di lavorare su tutti quei KPI Che adesso sono tra virgolette base fame quotidiana Cioè i volumi Noi vendiamo una serie di promozioni E lo facciamo con gli strumenti classici che sono il volantino cartaceo Piuttosto che l'execution con le esposizioni fuori banco Nei drugstore va di modo il termine catasta Proprio per lavorare nell'ottica di category killer per eccellenza Legata al prezzo Gli sfogliatori digitali E non da ultimo tutti quei touch point che appunto sono digitali E che mi consentono di lavorare in ottica di CRM E cioè colpendo i consumatori nel momento in cui dispiegano gli acquisti Un esempio tra tutti di back to basic sono le collezioni a bollini Che penso che esistano dagli anni 80 Nel canale food ovviamente strasdoganate Nel canale drug no Cioè non esistevano perché nel canale drug è un canale Il canale drug è più acerbo La carta fedeltà ha una penetrazione bassissima Perché è un canale dove Io dispiego gli acquisti in maniera occasionale Approfittando delle promozioni e non lavoro in frequenza Quindi non fidelizzo Ma perché? Cioè qual è il vero obiettivo Di chi opera all'interno di questo canale? Fidelizzare i consumatori Per il semplice motivo che adesso la curva di crescita È assolutamente in salita Perché è l'unico canale in cui Continuano ad essere aperti tanti negozi Quindi la crescita sicuramente a rete corrente Double digit inizia ad essere Invece meno significativa like for like Però è un canale in cui si continua a crescere Ma in realtà si cresce grazie alle aperture La vera sfida è Fidelizzare Quindi avere uno zoccolo duro di clienti Anche all'interno del canale drug Quello stesso canale che deve imparare A vivere in relazione con il cliente E in effetti noi abbiamo tentato di Come dire Spostare l'attenzione Da quello che potrebbe essere Un approccio one to many A quello che in realtà è un approccio one to one E quindi stabilire una relazione Una connessione con il consumatore Che ci consenta di Accompagnarlo nella customer journey Quindi modificare Intercettare le abitudini di acquisto Modificare le abitudini di acquisto Dargli uno stretch sul decide di fatturare Quindi portarlo a spendere un po' di più Fare una serie di operazioni con l'industria di marca Che gli consentano poi Di leggere quei dati a sell out Di scerizzare quei dati Che possono essere fondamentali Penso all'e-switch di quota Tra un brand con l'altro Alle concentrazioni di mercato Di un player con un altro E quindi tutta una serie di opportunità Di scerizzazione del dato Per cui il back to basic In questo caso Rispetto al canale drag Ha due mantra Il retail media Quindi touch point Che noi possiamo Banalmente vendere all'industria di marca Per generare volumi E ritornare a fare valore E la relazione Per ritornare a fare valore E stringere un legame Con il nostro cliente Verissimamente I risultati Che in risparmio casa Sono pervenuti Con questa strategia Più di 31 milioni Di scontrini Nel corso del 2023 Che si traducono In quasi 7 milioni e mezzo Di clienti Di questi 7 milioni e mezzo 2 milioni e mezzo Sono fedeli Quindi sono quelli Che abbiamo contattato Con i quali abbiamo stretto Una relazione Che ci dicono tutto Di cui abbiamo Un'altissima profilazione Del dato E quindi possiamo contattarli Altri 4 milioni e 9 sfidanti Che sono quelli Che in realtà Dobbiamo cercare Di mantenere fermi In maniera tale Che anche il like for like Continui a crescere E non continuino Invece loro a fare I cherry picker Perché il cliente fedele È il cliente Che porta più ricchezza È il cliente Che ha uno scontrino Medio più alto Spende 31,8 euro Verso 23,6 Del cliente non fedele Quindi praticamente 10 euro di differenza Visita annualmente 8,5 volte Verso 3,6 Il cliente non fedele In un mercato Dove stavamo dicendo Che la frequenza È uno dei KPI più difficile Da raggiungere Cioè nel supermercato La media è 2,5 volte a settimana Stiamo parlando Del nulla Io compro La cartigenica La carne Il prosciutto Le zucchine Vado praticamente Quasi 3 volte a settimana Nel canale drag Io devo convincerti A venire A stoccarti Perché devo recuperare Volume E ritornare Con frequenza Assiduità E poi È il consumatore Che mette Mediamente Più prodotti Nel carrello E quindi di fatto Aiuta poi Tutte le politiche Legate ai volumi Perché poi Noi se siamo qua Siamo qui a parlare Fondamentalmente Anche di risultati Che portano valore Alle aziende E quindi Sinteticamente Abbiamo Come dire Il back to basic E con lo sguardo Al futuro Sintetizzato Quindi Quindi concludo Con quello che è Secondo noi Il vero Back to basic Cioè Ritornare a fare Una pubblicità Efficace Semplice Quella che mi attrae Che mi ricorda I fondamenti Della catena Dell'insegna E stabilire Una relazione Di fiducia Con i consumatori Che poi ci consenta Di lavorare Di lungo periodo E non solo Di breve Grazie 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 A Rosanna Ungaro Devo dire Complimenti Anche perché I tuoi 20 minuti E come se fossero 40 Perché hai messo La doppia velocità In tutto quello Che ci hai raccontato Quindi Grazie Ma Risparmio casa Non è proprio Un drugstore Cioè Come lo definiamo Ecco Allora E qui Le note dolenti E ci aiutano I colleghi Degli istituti Di ricerca Allora Risparmio casa Nasce E viene Categorizzato All'interno Dello scenario Specialisti drug Di cui È il terzo Player Con 13.7 Di quota Di mercato Il primo Il secondo E il terzo Risparmio casa Ma Risparmio casa Non ha un assortimento Solo concentrato Sul drug Ma ha tutta Un'altra parte Di assortimento Che viene definito Total store Che è molto più Attinente al bazar Quindi alla cura Della casa Alla gestione Del tempo libero Al bricolage Al tessile Al giocattolo Alla cartoleria Tant'è che Se noi Dovessimo analizzare Risparmio casa Non in termini di quota Di specialisti drug Ma total store Arriviamo a 17 punti Di quota Mettendo all'interno Però gli stessi player Del centro Del canale distributivo Quindi questa è la risposta Tecnica La risposta è in realtà Più come dire Basic E che risparmio casa Vende tutto Quello che serve Per la casa E per la persona E quindi offre Questo assortimento Bastissimo Per soddisfare Le richieste Anche Dei target Come dire Che in questo momento Hanno più necessità Di essere accompagnati Nella convenienza Bene Ho capito Grazie mille Grazie Rosanna Ungaro Grazie mille 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 Grazie a tutti